C'è una cosa che risulta chiara vedendoti. Il tuo coraggio, Giulia, ti darà forza quando ti sentirai sola. Perché il coraggio mi ha tenuto in piedi per tutti questi anni. Ed è ciò che mi porterà avanti fino in fondo. In prima assoluta giustizia per tutti. Mercoledì, in prima serata, Canale 5.